Simpon, che stai facendo qui? Perché non si è al lavoro? Ho commesso un grave errore. Lenny mi ha spedito a casa per riflettere su ciò che ho fatto, ma non ricordo cos'era, perciò guardo la tv. Il regno del terrore di Lenny è finito. Questa mattina il signor Barnes ha riacquistato la centrale. Bando alle ciance. Devo parlare con Lisa. Io non intendo parlare con lei. Oh, io credo di sì. Ascolta, ho appena venduto la centrale riciclaggio della piccola Lisa per 120 milioni di dollari. Congratulazioni. Oh, non congratularti con me. Congratulati con i bastoncini di pesce based heat. Come mio consigliere hai diritto al 10% del ricavato. Lisa, ultimamente te l'ho detto che ti voglio tanto bene. Wow, non ho mai visto tanti soldi in vita mia. Oh, ma non posso accettarli. Non posso conoscendone la provenienza. Mamma, posso? Lisa, devi fare quello che ti dice la coscienza. No. Hai fatto la cosa giusta, tesoro. Questo è il primo caso che mi si presenta di un uomo colto da quattro infarti simultaneamente. Oh, mi dispiace, papino. Non fa niente. Capisco. Però quei 12 mila dollari ci avrebbero fatto comodino. Papi, il 10% di 120 milioni di dollari non è 12 mila dollari. Emergenza, rianimazione! Emergenza, rianimazione!